ciao ragazzi e bentrovati su fu 18 italia ora intanto auguro a tutti ancora buone feste perché ci siamo sentiti pochi questi giorni se non tramite il profilo instagram dedicato alla compravendita fra l'altro in descrizione trovate l'apposito link dove trovate il profilo instagram di cui parlo siamo arrivati oltre 4000 follower numeri altissimi veramente non mi aspettavo così tanto seguito comunque aspettando il team of the week garantito che spero arrivi stasera ma potrebbe arrivare anche domani o dopodomani per la fine dell'anno io mi sono comprato ovvero 85 e un paio di 86 allora principalmente 86 esclusivamente osil perché della premier tedesco quindi il più ibridabile possibile e come vedete ne ho prese 5 6 copie per quanto riguarda invece di 85 mi sono preso due o tre copie dei giocatori più facilmente ibridabili come potete vedere dalle immagini ho preso che dira intorno a prezzi xbox sono leggermente più alti rispetto a quelli ps4 su ps4 che dira 8.004 company sugli 8.008 8.009 miranda 8.005 braimi intorno agli 8.002 considerate che i giocatori più facilmente ibridabili sono anche generalmente difensori quindi anche screenare va bene potrebbe andare bene pepe ma lo stesso fakir va bene perché di un campionato e di una nazionalità ibridabile oggi farò un video breve ragazzi e quindi già sugli 83 84 abbiamo già investito e siamo già pieni quindi per lì siamo a posto poi 85 86 potrebbero essere utili per eventuali sbc particolari o slash e diciamo sbc flashback perché lo scorso anno abbiamo ricevuto carte fine di un'era quest'anno ancora nulla per cui mi aspetto qualcosa potrebbe esserci qualcosa prima dei totti per tenere i prezzi alti detto questo ragazzi vi invito a seguirmi iscrivetevi al canale mettete un like al video seguitemi seguitemi scusate sul profilo instagram dedicato alla compravendita food trading 18 italia e se avete dubbi chiarimenti scrivetemi su instagram che sono giornalmente connesso e vi rispondo non in direct bensì tra i commenti grazie per l'ascolto e un saluto a tutti e se non ci sentiamo prima buon anno a tutti quanti e buona compravendita ciao ragazzi